Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a ridare e a dire, «Figlio di Davide, Gesù, avvi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli ridava ancora più forte, «Figlio di Davide, avvi pietà di me!» Gesù si fermò e disse, «Chiamatelo!» Chiamarono il cerco, dicendogli, «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via al suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cerco gli rispose, «Rabuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse, «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo che lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore Fratelli e sorelle in Cristo All'inizio di questa liturgia abbiamo invocato il Dio che ascolti il grido della nostra preghiera e faccia sì che tutti gli uomini possano vedere il dono della Divina Misericordia. Con queste parole l'orazione riassume il pensiero guida dell'episodio evangelico dell'incontro tra Gesù e il cieco Bartimeo che ne allarga il significato a tutti i credenti. Nel suo cammino verso Gerusalemme, dove compirà la sua Pasqua, Gesù e i suoi discepoli passano per la città di Gerico. È un luogo malfamato fin dai tempi di Mosè per l'Ibreo Savanti e terra immonda. Il figlio di Timeo, Bartimeo, sta pertanto nel senso spirituale per tutto il popolo che non ha visto Dio ed è mendicante, cioè lontano da ogni speranza di salvezza. Ma Cristo è venuto all'illuminare i ciechi affinché potranno vedere Dio. Così il cieco Bartimeo diventa un modello della fede come passaggio dall'ignoranza alla conoscenza di Dio, dalla miseria morale e spirituale alla ricchezza della misericordia e della salvezza di Dio. E' le consapevole di essere cieco e mendico, ma ha nel cuore il barlume dell'esperanza di vedere la luce e al sentire la notizia del passaggio di Gesù inizia a gridare ad alta voce «Figlio di Davide, Gesù, ave pietà di me!» Egli non si lascia succoraggiare dai concittadini che vorrebbero farlo sar zitto, anzi, gridavano più forte «Figlio di Davide, ave pietà di me!» Così Bartimeo mostra alcune caratteristiche necessarie per la fede cristiana, l'umiltà di riconoscere la propria povertà, l'aspiranza come desiderio di Dio e la perseveranza nella preghiera. L'episodio mostra poi le diverse tappe della fede cristiana. Innanzitutto appare che la fede è il dono di Dio per eccellenza. Mentre Bartimeo è fermo, Gesù passa vicino a lui. Gesù è il principio e il termine della fede. Egli è il Dio che visita l'uomo cieco e povero. Gesù va dall'uomo che desidera la luce e la vita, ma è incapace di raggiungere ciò che desidera. Bartimeo non conosce ancora Gesù, ha soltanto sentito parlare di un grande profeta che sa guarire tutti i mali del corpo e dello spirito. Lo chiamo con il titolo generico «Figlio di Davide». C'è da notare c'erano tanti figli, ossia discendenti di Davide, in Giudea e in Gerusalemme. E inizialmente non osa nemmeno di chiedere la guarigione, ma chiede solo «Abi pietà di me». Ma questa fede ancora imperfetta è sufficiente perché Gesù lo chiami. Gli abitanti fanno la tramite della parola di Gesù. Si tratta qui di un altro importante particolare della fede cristiana. e si appassa attraverso le mediazioni umane della Chiesa. La comunione con Dio non può prescindere dalla comunità dei credenti. Così gli abitanti dicono a Bartimeo «Toraggio, alzati, ti chiama». Con la chiamata di Gesù la fede di Bartimeo si rafforza. «Elli ha gettato via il suo mantello, palzò in piedi e venne da Gesù». Il mantello era il segno esteriore del cerco del mendicante. Nella lettura allegorica esso significa l'uomo vecchio, per cui San Paolo esorta i Bibili Efesini. Dovete deporre l'uomo vecchio che si corrompe dietro le passioni incannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo creato, secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera. È vero l'uomo di suo è prigioniero della propria umanità impoverita riguardo alle cose di Dio e non riesce con le proprie forze a liberarsi da questa prigionia. Solo quando Gesù lo chiama, Bartimeo getta via il mantello, si alza in piedi e si incammina verso Gesù. Quando arriva davanti a lui, Gesù lo chiede «Che cosa vuoi che io faccia per te?» La domanda contiene un altro elemento del cammino di fede. Essa serve al cerco per manifestare chiaramente il bisogno di Dio e per aumentare il suo desiderio di essere esaudito. Come Bartimeo, tutti i credenti devono riconoscere davanti a Gesù la guarigione della propria ignoranza di Dio e del suo divino volere. Cristo chiede anche a noi, a ciascuno di noi, oggi, «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli è infinitamente ricco le donne di Dio, non è avaro, anzi, vuole donare i tesori di Dio a coloro che li desiderano. Se invece gli uomini sono indifferenti davanti a Dio o disprezzano i suoi doni, offendono Dio e procurano un dolore grande al cuore di Gesù. La richiesta di Bartimeo diventa un esempio di preghiera fiduciosa dei credenti e gli risponde, «Rabuni, che io veda di nuovo!» In vero, l'episodio di Gesù con Bartimeo mostra che la preghiera cristiana è essenzialmente un colloquio a tu, per tu, con Dio. La preghiera è esercizio di fede e la fede cresce con la preghiera assidua e fervorosa. Bartimeo non si rivolge più con il generico titolo «Figlio di Davide», ma con l'espressione familiare e amichevole «Rabuni», come la Mattelena, dopo aver riconosciuto Gesù risorto. In verità, i Santi, a partire dalla Regena dei Santi e la Piazza Vergine Maria, ci insegnano di nutrire i grandi desideri e presentarli a Dio e Lui li farà diventare opere. Di fatto, così avviene a per Bartimeo. Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato» e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. La fede in Cristo ha aperto gli occhi del corpo di Bartimeo per vedere fisicamente colui che lo ha traquarito e gli ha aperto gli occhi della fede per riconoscere a Cristo come Salvatore e perseguirlo. geograficamente la strada da Gerico a Gerusalemme è in salita e per Gesù essa terminerà sul Calvario. spiritualmente seguire Gesù lungo la strada vuol dire seguirlo sulla via angusta. In mezzo alle tribolazioni del mondo essa conduce alla luce della vita. Dopo che Gesù ha aperto a noi gli occhi della fede dobbiamo seguirlo sul faticoso cammino in salita. dobbiamo abbandonare le maniere mondane di vita rappresentate dall'Agerico cioè significa città anate ma secondo l'etimologia ebraica e salire verso Gerusalemme la città della pace con Dio e tra gli uomini ovvero la città santa. La Chiesa deve essere nel mondo questa città di Dio. I credenti hanno nel mondo la missione di riflettere la santità di Cristo. Dunque come conseguenza ultima la fede diventa via per seguire Cristo e la via che conduce alla visione beatifica di Dio. In un altro luogo Gesù ha affermato io sono la via la verità e la vita nessuno viene a pari se non per mezzo di me. Preghiamo anche noi oggi Gesù conduca tutti noi in questa via verso la nostra dimora celeste. Sio d'età di Gesù Cristo